Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze Mare, coda per traffico intenso su riveabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e code a tratti per traffico tra Montecatini Terme e Bion 11A1. Qualche problema in Fipili per lavori di miglioramento della sicurezza, ci sono 6 km di coda con tendenza all'aumento tra Empoli e Montelupo nella carreggiata verso Firenze. Per lavori inoltre, rallentamenti in carreggiata opposta tra Ginestra e Montelupo. Ricordiamo i percorsi alternativi sulla SP12, la Statale 67 o sull'autostrada 11. Per traffico inoltre, sempre in Fipili, rallentamenti verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In carreggiata opposta, coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in uscita a San Miniato. Muoversi in Toscana Infio, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!